Stasera ho pochissimo tempo, devo uscire con Luciano e mi devo ancora cambiare, per cui preparo gli spaghetti al burro e parmigiano, però belli cremosi, guardate come. Butto gli spaghetti. Ho tenuto il burro a temperatura ambiente per un po'. Ci metto un po' di acqua della pasta e lo faccio sciogliere così, bello cremoso. Adesso aggiungo il parmigiano. E ancora un pochino di acqua della pasta. Guardate che cremosi, manca una macinata di pepe e ci siamo. Buon appetito e poi corro via!